proseguiamo con le nostre emozioni qui all'ossia mare nuovo volto in casa ostia classe 2003 alessio barbaro portiere che insomma grande fisico grande talento è venuto qui a ostia e oggi ha fatto la sua prima apparizione con i grandi anche se in amichevole buonasera alessio e complimenti naturalmente per questa tua prima se ci racconti un po le emozioni di questo debutto è stata un'emozione fantastica anche perché giocare con gente di esperienza e di età più grande di te fa sempre piacere appena il mister ha letto le formazioni ha letto il mio nome non me l'aspettavo tutti mi hanno detto stai tranquillo lei gioca come se fare che sei bravo e è andata bene senti raccontaci proprio questi primi momenti qui a ostia insomma questa avventura come partita il rapporto con i tuoi compagni della juniores con il mister colantoni i primissimi allenamenti qui a ostia è partita abbastanza bene ho iniziato il ritiro con la prima squadra poi sono andato a fare i primi allenamenti con la juniores la maggior parte della squadra diciamo già la conoscevo quindi mi sono ambientato subito e facilmente è un buon rapporto anche con il mister ci parlo spesso è andato bene insomma la cosa più bella di questi primi momenti qui a ostia sicuramente stare con la prima squadra di gente come come adriano da stolfo nardo nanni il bomber sono tre persone fantastiche di altissimo il lavoro infine con il prof con mister compagnone insomma un bel lavoro ci spacca ci fa lavorare abbastanza bene ma poi in partita i risultati si vedono anche durante allenamento nelle partitine quando fai a fare delle parate si sente tutto il lavoro sulle gambe la forza è un ottimo lavoro allora in bocca al lupo naturalmente per questa tua avventura ostia e buona stagione grazie